Ciao! Allora, come sempre negli ultimi video ci sono le cicale che sono le protagoniste assolute ecco, ma noi non ci scomponiamo per questo e oggi sfogliamo l'album numero 10 del libro che è valido fino al 23 di agosto del 2016. Questo album è quello che prende un mese perché così è il periodo estivo Cosa ci sono? Tantissime offerte, soprattutto per la nail art, per le unghie, tante promozioni sui smalti e tanti set per un rituale di bellezza, quindi tanti prodotti per il set per il viso, per i capelli e per il corpo direi di iniziare subito a sfogliare l'album Ed eccoci qui. Allora, catalogo numero 10, valido fino al 23 agosto 2016 Sommario e vediamo subito i tantissimi colori degli smalti che sono in offerta perché due smalti a solo 5 euro ed è come si scegliono uno col codice normale e uno col codice sottolineato, quindi uno e uno ad esempio per avere 2 a 5 euro, considerando che uno costa 3,95 euro è una grande offerta È il momento di prendersi cura delle unghie, anche con i prodotti per le unghie, con gli smalti curativi Eccoli Con lo smalto SS Ritocchi, la penna solvente, la base, lo zero di effetti, il top coat, l'effetto smoky ed effetto gloss E questi sono gli altri colori, quelli effetto gel Manicure è perfetta anche con il pennello liner, con il penneil art, con il dotter Il pennello per l'effetto grafico, con le due dimensioni di settore e ovviamente le lime Altra promozione, eccola qui, lo struccante rapido occhi bifasico Quello che io, lo sapete benissimo, adoro, 3,95 Vediamo ora il set, questo è il prodotto salva bellezza, lo chiama come set Perché comprende l'indra vegetale, il gel detergente freschetta e il gel crema in dotazione intensa Quello a 24 ore, a 10,95 euro Si può avere anche il set, eccoli qui Ed è quello per le pelli da normale secche Sempre con il detergente, ma la crema invece è quella a crema ricca Oppure con la protezione Quindi sempre detergente ed è la crema idratante con protezione 25 I codici sono questi e il prezzo non cambia Altro set, eccoli qui, quello zero di effetti Che è il gel detergente purificante e il gel crema zero di effetti 11,95 In alternativa per una pelle matte, sempre detergente e il gel crema opacizzante Linea Pure System, gel detergente purificante e il trattamento antiimperfezioni a 11,95 Linea e le pelli sensibili, quelli sensitive vegetale Latte detergente lenitivo e la crema idratante lenitiva 11,95 Set, serum vegetal, latte detergente levigante e il trattamento levigante giorno Il vasetto da 50 ml, quindi quello grosso, 16,95 Oppure eccolo qui ed abbiamo quello rimpolpante Quindi con il latte detergente levigante e il trattamento rimpolpante giorno a 17,95 Vedete che ad esempio solo la crema da sola costerebbe 15,95 Quindi è proprio una grandissima offerta Andiamo avanti Perché abbiamo il ride lifting Con il latte detergente levigante e il trattamento modellante giorno a 19,95 Vediamo ora un prodotto salva bellezza per i capelli Perché è tutto il set riparazione Che è quello che io adoro e ve ne ho parlato Lo shampoo trattante nutre il riparatore con il balsamo e la maschera Tutto quanto a 9,95 Vi mostro ora l'offerta, eccola qui, queste due pagine Delle Plasernature perché due bagno doccia a solo 6,95 I profumazioni sono mango e coriandolo Lampone, menta piperita Nocce di cocco, vaniglia e bourbon E lavandina e mora Come si prende? Semplicemente con Acquistando un prodotto con un codice Eccolo qui E il secondo a scelta con il codice stonneato Ultima offerta Ed è qui salva bellezza Eccola qui E la BB cream è a 7,95 Nelle tre colorazioni Light, medium oppure medium dark Ora vi mostro Ed è Questa è un'altra promozione Perché Acquistando uno dei trattamenti vegetali corpo Tra tutti questi che vi mostro Si ha in omaggio il mini latte idratante Ed sono davvero delle mini taglie grandi Perché comunque è un 30 ml Quindi va benissimo per il corpo Ed è I prodotti Per cui scegliere Sono tutti questi Quindi la linea nutriente Ecco La linea idratazione Ed è La mousse anti ricrescita Il gel fresco Gambi leggere Litting seno Eccola qua Ed è il gommage vegetale Quella super nutriente E questa era l'ultima pagina dell'album Eccoci Abbiamo finito di sfogliarlo Allora Come sempre Qui sotto ci sono i link Per contattarmi Per le informazioni Per gli ordini E tranquillamente c'è sempre anche nell'info box Qui Il link Per scaricare il catalogo in formato pdf Così potete tranquillamente sfogliarlo sul vostro computer Sul tablet Dove volete Ho visto che ultimamente È presente anche su varie app Dove conviene Promo qui Quindi potete tranquillamente sfogliarlo Ed non mi resta che augurarvi Buoni acquisti naturalmente profumati Con il mio magico attuale mondo Di Brochet Per le informazioni Grazie a tutti Per le informazioni